Sono Marta Ceroni e ho scritto l'anatrasposa. Sono milanese di nascita e vivo negli Stati Uniti da più di vent'anni, molti passati nelle colline del New Hampshire, dove il ghiaccio e la neve durano fino ad aprile. È un romanzo che è nato da un mio bisogno molto forte di elaborare l'appartenenza, cioè cosa vuol dire fare parte di un posto, fare parte di una cultura. È una storia che si svolge tra gli arcini del Po, che ho scritto soprattutto d'inverno, ma che si svolge soprattutto d'estate. Una storia dove c'è chi vive di sensi, chi vive di intuizione, chi ha delle radici che intrappolano e chi le radici invece le deve ancora formare. Poi un giorno compare un'anatra bellissima che non si è mai vista. Viene da lontano, dal Nord America, e allora sì che tutto si complica. Vi auguro una buona lettura e faccio anche un po' di festa ora che la storia passa da me a voi. Vi ringrazio e presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.